Il popolo tedesco La classe operaia non si arrende e combatte La classe operaia non si arrende Al servizio del grande capitale Il nazismo sa fare il suo dovere E così nel febbraio va in fiamma il Parlamento Di sicuro sono stati comunisti assassini Di sicuro sono stati comunisti La Gestapo arresta all'improvviso Dimitrov clandestino in una casa Ed accusa dell'incendio scoppiato al Parlamento Emissario dell'internazionale in Germania Emissario dell'internazionale Questo bulgaro è solo, pensa il boia E prepara la condanna già decisa Ma la voce di Dimitrov che accusa chi lo accusa È la voce di tutti gli sfruttati del mondo È la voce di tutti gli sfruttati Che treman dal berretto agli stivali I gerarchi con tutto il tribunale Perché adesso la faccenda è certo propaganda Ma soltanto per l'internazionale di Stalin Ma soltanto per l'internazionale Magistrato picchia pure il tuo martello Tutto il mondo sente solo la sua voce Il nazismo inquisitore trasformato in imputato Alla fine ha dovuto liberare Dimitrov Alla fine l'ha dovuto liberare È la sua voce che ci parla del fascismo È la voce della scienza e del coraggio È la voce della classe combattente d'avanguardia È la rossa bandiera partigiana Compagni della rossa bandiera partigiana